grazie appunto per essere venuti un oggi presentiamo il libro di Gabriele Mastrolillo la dissidenza comunista italiana Troschi e le origini della quarta internazionale millenovecentoventotto millenovecento trentotto un libro edito da Carocci lo scorso ottobre è uscito quindi molto piuttosto recente e voglio dare un piccolo profilo dell'autore di solito non si fa si si dà per per scontato in realtà c'è una quarta di copertina per chi vorrà diciamo che potrà vorrà leggere il volume ma qualche riferimento mi piace darlo lo coinvolgeremo più tardi nella discussione dottore di ricerca in storia dell'Europa la Sapienza l'Università di Roma la Sapienza fa parte della redazione romana di storia magistra e del comitato di redazione di risorgimento e mezzogiorno all'attivo già diverse pubblicazioni in particolare su Alfonso Leonetti che in qualche modo lo ha preparato a questo quest'ultima monografia e ha curato con di maggio un numero monografico della rivista dimensioni e problemi della ricerca storica sull'internazionale comunista come network globale negli anni dal 1919 al 1943 ma presento naturalmente anche la relatrice e il relatore che ringrazio per essere venuti e che sono esperti della materia in primo luogo Maria Luisa Righi che a mio fianco è tra le più esperte affermate studiose di Antonio Gramsci di storia del movimento comunista di storia del sindacalismo e di storia delle donne ricercatrice presso la fondazione Gramsci oltre ai tanti studi gramsciani vanto un lungo elenco di pubblicazioni che hanno contribuito a far emergere figure di rilievo della storia del novecento voglio solo citare una delle opere più recenti c'è la curatela insieme a Fabio Francione di questa apprezzatissima e interessantissima raccolta di scritti musicali di cronache musicali di Gramsci che si intitola concerti e sconcerti apparsa per Mimesis e che appunto è una chicca come dire molto molto importante nella letteratura Gramsciani. L'altro mio fianco Gianluca Fiocco docente di storia contemporanea all'Università di Roma Ter Vorgata anche lui esperto di storia del comunismo italiano e internazionale autore tra l'altro di una biografia di Palmiro Togliatti e si è occupato e si occupa anche di storia delle guerre di storia politica dell'esplorazione spaziale che è un tema particolare ma che in modo in questo periodo è particolarmente importante di storia dell'Italia repubblicana e di storia del Brasile contemporanea. Ora scusate il rumore della dunque io limiterò il mio compito a moderare però qualche piccola osservazione sul libro vorrei non che per orientare la discussione questo sia chiaro però per dato che leggere il libro ma specialmente scrivere questo libro deve essere stato particolarmente faticoso perché dico non faticoso la lettura semplicemente per il fatto che è un libro che per sua natura va a coprire un vuoto storiografico e nell'andare a coprire un vuoto storiografico lo fa con una serietà filologica diciamo che che consente all'autore di ricostruire un quadro quello del cosiddetto troschismo tra il 1928 e il 1938 che è un quadro estremamente complicato nel senso che riuscire a orientarsi in quel labirinto di figure anche marginali diciamo o che comunque sono state rese marginali dalla storiografia e quindi anche con difficoltà di di reperimento della documentazione perché in una fase particolare in realtà questo è un libro che 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 parla di un network internazionale e transnazionale ma si concentra in modo particolare sulla dissidenza comunista italiana e in quel periodo come ben sapete in periodo in cui c'è il regime fascista quindi sono si parla di rifugiati politici in Francia in particolare e di è un'epoca di clandestinità e quindi anche la documentazione soffre di questa condizione particolare con cui si ci si muove su quell'epoca e quindi a maggior ragione io devo dire ho avuto dei moti di solidarietà nei confronti dell'autore quando andavo a inserirmi dentro questi labirinti un po' devo dire che le difficoltà le hanno create anche i soggetti e del del oggetti e soggetti del della ricerca perché poi non stavano non si chietavano mai nel senso che erano continuamente diciamo quella come si dice scherzosamente la scissione dell'atomo in ogni caso erano piccoli gruppi prevalentemente di intellettuali spesso in contrasto con tra loro in conflitto tra loro che tendevano diciamo a separarsi per ragioni ideologiche ragioni politiche e anche ragioni personali talvolta emerge ed è interessante dal libro di Mastrolillo anche questo aspetto insomma dissidi che riguardano la parte è un piccolo gioco i paragrafi è molto ben strutturato questo libro nei paragrafi io leggo alcune di queste parole ripetute più volte dissidi interni contrasti interni divergenze sdoppiamento più volte ripetuto il termine contrasto rottura esclusione fino a uno degli ultimi paragrafi che si chiama agonia quindi diciamo che già soltanto la la lettura dell'indice annuncia una storia complessa una storia complessa su cui allora un altro elemento che io devo dire molto apprezzato è quello della citazione della letteratura bibliografica della letteratura storiografica cioè della bibliografia sui sui diversi argomenti toccati chiaramente sul movimento trotskista sulle origini della quarta internazionale ma anche sui movimenti dei partiti della sinistra socialista insomma un quadro di una bibliografia quasi archeologica ormai e farla riemergere ha un significato molto importante anche per questo motivo alla fine del volume c'è un appendice bibliografico interessante il ecco già ne approfitto per dire per fare invece la critica che so che condivisa anche dai dai nostri dalla relatrice dal relatore e c'è la mancanza all'indice dei nomi poi ce lo spiegherà Mastro Lillo la ragione anche se è facilmente intuibile però ecco in un in un libro che si propone anche come libro di servizio proprio perché ricostruisce e che potrebbe prestarsi anche alla consultazione diciamo non solo alla lettura che è auspicabile ma anche un po' alla consultazione proprio per far riemergere legami relazioni con personaggi e personalità che sono più o meno scomparsa dall'orizzonte storiografico almeno per molti decenni allora ecco un indice dei nomi chiaramente avrebbe favorito ma questo per intenderlo in positivo bisognerà leggerlo tutto e quindi non non ad nome l'altro gli altri elementi molto rapidamente che volevo mettere in rilievo giustamente uno dei motivi per cui ritiene l'autore che non ci sia stata una storiografia più solida su sul movimento trotschista e che le formazioni trotschiste in Italia specialmente erano numericamente molto ridotte insomma poco rilevanti e questo è noto e io aggiungo anche che la nel la anche laddove le condizioni ambientali cioè consentivano favorivano una presenza più significativa più rilevante del movimento trotschista mi riferisco alla Francia in particolare però poi anche lì c'era dei dissidi interni che le rendevano molto marginali e questi dissidi interni io ne ho contezza sulla fase successiva del secondo dopoguerra quando il movimento trotschista si riprende per qualche in qualche misura o cerca di ricostruirsi in cui la la cifra prevalente è sempre quella del conflitto cioè un conflitto interno che è quasi paradossistico insomma e per quanto poi contribuiscono penso a Ernest Mandel o alla stessa figura già trattata dall'autore di Pierre Naville che che poi nel secondo dopoguerra continua ad avere un ruolo fino al partito social al PSU francese degli anni sessanta e quindi è un mondo che tenderà tra l'altro a a dislocarsi come ci ci racconta l'autore anche dalla dissidenza comunista alla dissidenza socialista questo trasferimento è significativo chiaramente lo specchio di un'affermazione del movimento comunista di una definitiva affermazione del movimento comunista della visione più ortodossa o più stalinista e quindi anche della maggiore marginazione del movimento etroschista che trova spazi in quel gran calderone diciamo che sono i partiti socialisti e il movimento socialista europeo andando ad occupare in alcuni casi degli spazi prevalenti all'interno delle correnti della sinistra di questi partiti penso in partito socialista belga ma questo anche nella sfio e molto limitatamente anche nel partito socialista italiano dopo il 35 quello è allora un un altro elemento molto rapidamente è il rapporto internazionalismo nazionalismo allora a me questo è un po' un convitato di pietra non nel senso che si assente ma semplicemente che è un po' sempre allo sullo sfondo c'è questa questa tensione molto forte tra internazionalismo e nazionalismo certo per certi eventi è scontato stiamo parlando delle origini della quarta internazionale se non parlassimo di internazionalismo qua dentro però emerge anche il fatto che i trotschisti si propongono allora ed avrebbero una possibilità non solo perché forza antistalinista all'interno del movimento comunista e quindi questo lo caratterizza fortemente ma anche come come una delle poche forze realmente internazionaliste di quel periodo in un periodo che in ultima istanza anche riferendosi all'unione sovietica e viene diciamo egemonizzato dalla cultura nazionalista quasi ad assumere una sorta di assiomia per cui l'internazionalismo è questione da intellettuali mentre il nazionalismo conduceva le cose concrete questa che poi è anche un tema che sembra riflettersi anche nelle vicende attuali cioè che le visioni internazionaliste sono discorsi campati in aria mentre soltanto quando si parla di nazione si parla di cose concrete ecco questa tensione è evidente in un contesto chiaramente molto con molto particolare come quello del degli anni trenta di cui parla l'autore allora io mi fermo qui soltanto un paio di spunti e solo per per precisare ancora che ho letto con grande piacere il volume ricavando tra l'altro informazioni per me preziose per il lavoro che sto facendo nel secondo dopoguerra sulla storia del movimento socialista per andare a costruire genealogie e origini che sono non solo quelle della quarta internazionale ma anche di un pezzo stesso del movimento socialista del secondo dopoguerra che sarà fortemente caratterizzato compreso l'erio basso cioè nel senso che la storia di l'erio basso visto che siamo in questa sede che poi specifica il mio interesse di ricerca e di studio lo stesso l'erio basso che trotschista non era per quanto sia stato accusato di esserlo nel momento negli anni all'inizio degli anni 50 quando fu emarginato e chiaramente trotschismo era l'espressione sempre pronta per per far fuori qualcuno insomma non era trotschista per tanti motivi però poi negli anni 60 quando inizierà il percorso verso la nuova sinistra socialista l'erio basso entrerà a livello europeo non italiano perché era irrilevante e marginale il movimento trotschista in italia ma a livello europeo troverà come interlocutori molti trotschisti tra cui piernaville tra cui mandelle tra cui da vari altri e in francia in belgio nell'ambito francofono ma anche in inghilterra dove diciamo l'ambiente della fondazione russell per esempio era fortemente diciamo attraversato da a partire da ken koz che che era un di di tendenza trotschista di tendenza trotschista in